Il collegamento pronto, diamo il benvenuto a Sor Roberta Tremarelli, segretario generale della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria. Grazie Sor Roberta per essere qui con noi. Grazie, buongiorno a voi. Allora, Sor Roberta, grazie, grazie ancora. Prima di andare nello specifico delle attività della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria, direi anche un po' per non addetti ai lavori, facciamo un breve riepilogo di che cosa sono le Pontifici Opere, quali sono queste quattro Pontifici Opere Missionarie, un po' qual è appunto l'attività principale che lo ricordiamo è posta sotto il presidio, la guida del Di Castiero per l'Evangelizzazione. Sì, grazie. Le Pontifici Opere Missionarie hanno il compito, la responsabilità di risvegliare nei battezzati e nei cristiani la coscienza missionaria, la responsabilità missionaria. Come ci ripete spesso Papa Francesco, dal battesimo siamo missionari, significa siamo responsabili di testimoniare con la nostra vita e annunciare il Vangelo. Le Pontifici Opere Missionarie sono quattro. L'opera della propagazione della fede, che è la prima che è stata fondata nel 1822 dalla beata Paolina Jaricot, quindi lo scorso anno sono stati festeggiati 200 anni di fondazione. Poi l'opera della Santa Infanzia, fondata nel 1843 da Monsignor Charles de Forben-Genson, che si occupa dell'animazione e formazione dei bambini missionari. Poi l'opera di San Pietro Apostolo, fondata da una donna laica, Jean Bigard, nel 1889, per sostenere la formazione dei seminaristi nella chiesa lì dove sono, nel clero autottono. Infine l'ultima, la Pontificia Unione Missionaria, fondata dal beato Paolo Manna nel 1916, definita dal Papa Paolo VI come l'anima delle quattro Pontifici Opere Missionarie. Le Pontifici Opere Missionarie sono presenti nel mondo in circa 120 nazioni, con la direzione nazionale, che insieme alla conferenza episcopale si occupa di animare gli adulti, i bambini, i ragazzi, i giovani, i famigli a questa responsabilità nell'evangelizzazione. Sì, Roberta, abbiamo visto anche quello che è il sito web delle quattro Pontifici Opere Missionarie, e lo ricordiamo anche www.ppoomm, appunto l'abbregazione di Pontifici Opere Missionarie, punto va. Entriamo quindi nel dettaglio di quella che è l'attività della Pontifici Opere dell'infanzia missionaria. Qualche settimana fa abbiamo anche celebrato, ricordato un po' la giornata dell'infanzia missionaria. Sono tante le emergenze in questo momento, emergenze che riguardano i più piccoli, quelli più indifesi. Stiamo assistendo a quella che è la tragedia degli sbarchi di Crotone, ma abbiamo visto anche nelle scorse settimane l'emergenza per via del terremoto in Turchia. Quali sono le priorità in questo momento della Pontifici Opere dell'infanzia missionaria? Le Pontifici Opere Missionarie in generale cercano di rispondere, se possibile, alle urgenze e alle emergenze tramite le direzioni nazionali. Perché, ecco, volevo soltanto specificare, in Italia la direzione nazionale delle Pontifici Opere Missionarie è Missio Italia, per quanto riguarda l'infanzia missionaria è Missio Ragazzi. Come opera? Allora, noi siamo strutturati che a fine maggio abbiamo un'assemblea generale di tutte le direzioni, di tutti i direttori, in cui vengono presentate le richieste di sussidio. Però, per questa emergenza, per esempio, del terremoto in Turchia e Siria, poiché abbiamo anche lì due direzioni nazionali, le altre, se arrivano delle richieste o delle offerte, per sostenere dei progetti, la ricostruzione, vengono gestite tramite queste due direzioni nazionali. Per ciò che riguarda l'opera di infanzia missionaria, il fondatore, già a suo tempo, aveva chiesto ai bambini di pregare ogni giorno, un'Ave Maria, per tutti i bambini del mondo. Quindi, ancora oggi, i bambini e i ragazzi missionari sono impegnati in questa preghiera quotidiana. e poi di offrire una moneta, qualcosa, una volta al mese. I progetti che vengono sostenuti dall'opera della Santa Infanzia sono dedicati esclusivamente a bambini e ragazzi fino a 14 anni e riguardano sì la formazione cristiana e missionaria, ma anche l'educazione scolastica. Quindi, se pensiamo alla Siria, dove la realtà cattolica è anche una minoranza, il sostegno dell'opera della Santa Infanzia è principalmente a favore delle scuole cattoliche, quindi la formazione scolastica, la costruzione di aule, il pagamento di materiali scolastici, ma anche per la salute, centri di salute e di accoglienza con i bambini. Quindi, in questo tempo, noi stiamo attendendo, logicamente è ancora il momento di capire quali sono le necessità per poter ricostruire e aiutare, nel caso particolare dell'opera della Santa Infanzia, le comunità che si prendono cura di bambini e ragazzi, quindi sia a case famiglie gestite da religiose che scuole o anche altre realtà. E lo vedremo tra poco, soprattutto con quella che è l'attività di questa Pontificia Opera Missionaria, soprattutto nel mondo della scuola, dell'educazione. Ci fermiamo, Sor Roberta, solo qualche secondo per un blocco pubblicitario e poi torniamo qui di nuovo. Eccoci qui, ben ritrovati, grazie di essere ancora con noi. Noi siamo sempre in collegamento con Sor Roberta Tremarelli, segretario generale della Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria. Sor Roberta, per concludere anche, parlavamo appunto della grande attività rivolta al mondo della scuola, dell'educazione. Sono tanti i progetti portati avanti dalla Pontificia Opera, soprattutto in Africa, in Sudafrica. Qual è uno dei progetti magari che le sta più a cuore e che in questo momento ci vorrebbero raccontare? Ma i progetti sono tanti, specialmente, ecco io la scorsa settimana sono stata in Benin, in visita, prima in Guinea con Acre. Ci sono delle realtà che probabilmente noi occidentali conosciamo poco, abbiamo molti pregiudizi e pensiamo di accumunare specialmente tutto ciò che riguarda l'Africa in un unico paese, mentre è un continente molto vasto. I progetti che stanno più a cuore sono tanti, però quelli della scuola, specialmente della scuola cattolica, gestita a livello parrocchiale di oggi, si è molto importante, perché anche nei paesi a prevalenza musulmana, in Africa, che sono tanti, la scuola cattolica è un punto di riferimento per tutte le famiglie, indistintamente dalla fede, dalla religione. E quindi è importante per noi, per la Chiesa locale, sostenere le scuole, proprio perché attraverso le scuole si può trasmettere il messaggio del Vangelo in maniera serena. E poi si riesce a venire a contatto con le famiglie, che è un elemento fondamentale per la costruzione della società. Quando sono stata in Guinea ho visitato, nella diocesi di Cancan, una parrocchia dove ci sono delle... all'interno del recinto della parrocchia ci sono delle classi di una scuola primaria e di una scuola materna. Classi che, rispetto a quelle che noi abbiamo qui, sono piccolissime, con un numero di bambini che va da 40 a 50. in un paese dove, nel periodo caldo, la temperatura arriva anche a 40 gradi. Quindi i bambini lì, fino a mezzogiorno, poi in quel momento, cioè dopo, devono essere mandati a casa. Quindi le necessità sono di costruire aule più ampie, anche a piano superiore, in modo che non ci sia il sole che scalda direttamente i tetti che sono fatti di materiale che non mantiene. Quindi di tutte queste realtà dell'educazione scolastica è fondamentale per noi dell'Opera della Santa Infanzia, proprio per aiutare i bambini a crescere bene. E io, guardando questi bambini e ragazzi che vanno a scuola ogni mattina, a piedi, a mezzogiorno tornano a casa, alle 3 ritornano a scuola, fino alle 6, mi sento orgogliosa per loro, per dire quanto desiderio c'è di conoscere e crescere. E credo che sia importante per noi, innanzitutto, la preghiera a sostenere questa attività di educazione, ma anche pregare affinché i governanti siano veramente responsabili nei confronti delle generazioni che adesso sono le più giochi, perché ci sono molte difficoltà per consentire uno sviluppo adeguato e rispettoso della dignità umana. Grazie, grazie Sor Roberta per essere stata con noi. Noi ricordiamo anche nuovamente il sito www.ppomm, le iniziali appunto di Pontificio Opera Missionaria, appunto va, ci sono tutte le informazioni sulle Pontificio Opera Missionaria, in modo particolare anche sulla Pontificio Opera dell'Infanzia Missionaria, tutti i contatti anche di Miss Italia per poter vedere le vostre città ed eventualmente sostenere l'attività della Pontificio Opera dell'Infanzia Missionaria. Grazie ancora per essere stata con noi e l'aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo. Grazie, buon proseguimento e buona domenica di quaresima. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.